Buonasera, io ringrazio anche Francesca, ho raggiunto le parole già dette dal sindaco che io lo conoscevo così e così, non è che conoscevo così, siamo incontrati una volta in occasione di Milo, diciamo, e ringrazio anche gli artisti presenti, ma purtroppo per gli eventi che successe in questi dieci giorni, la serata è venuta un po' meno, anche perché come sapete già c'è un nuovo decreto nella Calabria che da domani le diverse cose sono chiusi, fortunatamente non è stata stasera, non è partito questa sera di questo decreto. Ringrazio tutti i presenti e in qualità di Presidente voglio aggiungere due ringraziamenti, il motivo per cui noi abbiamo voluto come associazione amici dell'innovità questa serata e l'amministrazione che l'associazione ringrazia vivamente ha concesso questo locale per poter creare un museo dedicato a Milo, che è nato a 50 metri da dove siamo noi, quasi tutti conoscendo la casa di Milo, perciò professionemente l'amministrazione ha dato il comodato uso questo locale e l'associazione sta cercando con la famiglia Patrizia Giuseppina e Grazia in sintonia con loro per poter veramente creare il museo, da parte loro donandoci e il ricordo di Milo insieme anche ai parenti, cioè ai fratelli di Milo, che degli oggetti da poter creare questo museo e come accendava Francesco, l'offerta che viene d'accordo questa sera è per i fondi, per partire, come si dice, il museo, per il museo, per partire il museo, perciò io ringrazio nuovamente voi presenti, purtroppo per quello in cui, nel stato in cui ci troviamo, tante persone non sono potute venire, o per paura o per trontananza, e quindi però da Presidente dell'associazione accetto se si può veramente creare questo gruppo, partendo poi dalla primavera, poi permettendo di raggiungere, perché di qui a 5-6 mesi noi non sappiamo in che stato ci troveremo, lo dicevamo ad aprile, purtroppo stiamo vedendo ancora le conseguenze, e qui a 5 mesi non sappiamo ancora come ci troviamo, quindi speriamo che dalla parte nostra ci deve essere questa osservanza delle norme, che qualcuno dice, però nella nostra ballata ci sono parecchi colpiti, non diciamo a Milano o in Australia, nella nostra ballata, e magari non lo conosciamo, perciò dipende anche dalla nostra, diciamo, ci siamo persone a poter conservare le norme che ci vengono date per sicurezza, perciò speriamo di poter veramente andare avanti, pure anche dal Signore, e grazie di nuovo e della vostra presenza. Grazie.